Ah, in realtà è solo audio, io me l'ho già messo in posa, comunque, no no no, zero video, va bene così, ma io direi una cosa fondamentale, innanzitutto, Fasha, tutti quanti vogliono fare il rap, io volevo fare il rapper, poi ho scoperto la tecno, e poi c'è un amico che vuole fare il rap, ciao, ciao, io sono Giovanni e voglio fare il rap, ciao Giovi, beh comunque dai raga, Fasha, tutti quanti vogliono fare il rap, Baswan, Bene, grazie, grazie a tutti